Musica Ben ritrovati in un appuntamento con l'informazione di TRMH24 Guerra tra clan rivali, eseguiti 7 arresti per gravi reati commessi nel quartiere Carrassi di Bari nel 2018 Uccisero un esponente di un clan rivale e poi ne nascosero il cadavere 7 persone sono state arrestate dai carabinieri di Bari che hanno eseguito altrettanti ordini di carcerazione emessi dalla procura generale della corte di appello a seguito delle sentenze definitive di condanna per reati gravi commessi nel quartiere Carrassi della capologo pugliese risalenti al 2018 I fatti di sangue secondo gli investigatori sono riconducibili alla guerra tra organizzazioni mafiose per il controllo del territorio e delle attività illecite in quella zona Due gli episodi connessi tra loro, l'omicidio di Fabiano Andolfi già affiliato al clan Anemolo e successivamente transitato nelle fila del clan Capriati commesso a Bari il 14 gennaio 2018 e il tentato omicidio di Filippo Cucumazzo ritenuto uno degli autori materiali dell'omicidio Andolfi commesso a Bari il 7 giugno 2018 Rintracciati a Bari, Lecce e Sulmona, gli arrestati più o meno noti alle forze dell'ordine Sono Vincenzo Anemolo, Giuseppe Caputo, Francesco Cascella, Filippo Cucumazzo, Giovanni De Benedictis, Donato, Maurizio Di Cosmo e Roberto Mele Dalle indagini condotte a seguito dell'omicidio mediante servizi di osservazione, controllo e pedinamento attività tecniche nonché supportate da diverse dichiarazioni di collaboratori di giustizia sono emersi gravi indizi nei confronti di Vincenzo Anemolo e Francesco Cascella in qualità di mandanti ma anche nei confronti di Filippo Cucumazzo, Domenico Giannini, Donato, Maurizio Di Cosmo e Giovanni De Benedictis in qualità di esecutori materiali L'attività investigativa ha permesso di inquadrare l'evento nella guerra di mafia tra i clan Palermiti, Anemolo egemoni nel quartiere Carrassi e il clan Capriati che si stava facciando nella stessa porzione di territorio La matrice dell'evento creò nei giorni successivi all'omicidio un clima di tensione da cui fu tratto il nome dell'operazione alta tensione che fu segnato da vere e proprie scorrerie armate finalizzate alla reciproca eliminazione dei membri dei due gruppi mafiosi coinvolti Anziana uccisa a San Giovanni Rotondo, il sindaco annuncia il lutto cittadino intanto proseguono le indagini sull'omicidio Sarà lutto cittadino a San Giovanni Rotondo in provincia di Foggia nel giorno dei funerali di Rachele Covino l'81enne uccisa nella sua abitazione di via Sergente Padovano nella tarda mattinata di sabato 25 maggio lo ha annunciato il sindaco Michele Crisetti sottolineando il momento di profondo dolore dell'intera comunità cittadina e la vicinanza alla famiglia dell'anziana ai suoi due figli Emanuela e Salvatore Continuano intanto le indagini coordinate dalla procura Fabio Carinci, il 43enne sospettato di essere l'autore dell'omicidio dell'anziana probabilmente aggredita e scaraventata contro un mobile ancora appiantonato in ospedale a San Severo dove è ricoverato nel reparto di psichiatria ha seminato terrore per oltre mezz'ora in città aggirandosi completamente nudo e aggredendo chiunque incontrasse lungo il percorso prima di essere bloccato dai carabinieri Si attende ora l'autopsia sul corpo dell'anziana donna che potrebbe chiarire molti aspetti della vicenda Si moltiplicano le segnalazioni di truffe messe a segno in particolar modo verso le persone anziane ascoltiamo i consigli del vice dirigente del comando di polizia postale pugliese Iniziamo da un messaggio Mamma sono io, ho perso il telefono questo è un numero nuovo, lo puoi salvare e scrivermi su whatsapp che fenomeno è questo? è una truffa dove il malfattore cerca di sostituirsi a una persona cara alla vittima al fine di prendere del denaro utilizzando uno stratagemma cioè chiede alla mamma di dargli del denaro per acquistare un nuovo telefono dal momento che il suo telefono è stato rubato o lo ha perso è un fenomeno abbastanza diffuso vive dei picchi stagionali in corrispondenza delle stagioni di vacanze ed è in qualche modo randomico cioè viene fatto in maniera massiva partendo da uno studio ovviamente della vittima abbiamo anche nella nostra casistica casi in cui ha una cifra iniziale sopraggiunta una cifra ben più alta perché poi ovviamente il truffatore rendendosi conto che la vittima elargisce denaro spinge su una cifra più alta che cosa possiamo consigliare a chi riceve un tentativo di questo tipo tramite telefono, tramite whatsapp? la cosa che consiglio di fare è di cercare di contattare la figlia o il figlio insomma e verificare se effettivamente ha fatto questo tipo di si trova in questo tipo di stato di emergenza di fidare in generale da tutti i contatti che hanno come obiettivo un pagamento interloquire con il presunto operatore bancario prendere tempo qualunque tipo di scusa che possa rallentare quella situazione contattare la banca e chiedere delucidazioni che al 99,9% confermeranno che si tratta di una truffa io direi al 100% Voltiamo pagina l'8 e il 9 giugno si vota per le europee nel prossimo servizio vediamo come si vota Sabato 8 giugno dalle 15 alle 23 e domenica 9 dalle 7 alle 23 in Italia si terranno le elezioni per scegliere 76 dei 720 deputati del Parlamento europeo 18 di questi saranno eletti nella circoscrizione Italia Meridionale con sistema proporzionale che comprende Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Puglia Per gli italiani all'estero si voterà invece venerdì 7 e sabato 8 giugno Nuove disposizioni consentono inoltre agli studenti fuori sede che ne abbiano fatto richiesta entro il 5 maggio di votare per le liste i candidati della propria circoscrizione di origine direttamente nei comuni in cui risiedono temporaneamente a condizione che questi ultimi appartengono alla stessa circoscrizione elettorale o in caso contrario presso seggi speciali nei capoluoghi di regione Le operazioni di scrutinio inizieranno domenica 9 giugno appena concluse le operazioni di riscontro dei votanti per ciascuna consultazione elettorale mentre lo scrutinio per le elezioni comunali avrà inizio lunedì 10 giugno alle 14 Ogni elettore avrà a disposizione un'unica scheda su cui esprimere il proprio voto tracciando un segno sul simbolo corrispondente alla lista prescelta È facoltativo esprimere fino a un massimo di 3 preferenze per i candidati della lista scelta Le preferenze possono essere indicate scrivendo il nome e cognome del candidato solo il cognome oppure altre espressioni identificative presenti sulla lista Tuttavia, se si scelgono più preferenze queste devono riguardare candidati di sesso diverso altrimenti la seconda e terza preferenza saranno annullate Il voto si esprime nel seggio elettorale in cui si è iscritti presentando un documento di riconoscimento insieme alla tessera elettorale Il seggio di appartenenza è indicato sulla tessera stessa L'Associazione di Volontariato Rete Malattie Rare compie 20 anni per l'occasione presenta anche due appuntamenti culturali Malattie rare dalle parole ai fatti concreti e soprattutto necessari affinché chi soffre di malattia rara non sia lasciato solo Per raro non bisogna intendere patologie dai numeri bassi al contrario sono malattie nel loro insieme numerosissime che colpiscono moltissime persone e che devono essere affrontate attraverso un approccio multidisciplinare che consenta di superare il fatto che individualmente sono scarse e dunque non favoriscono investimenti nella ricerca scientifica farmacologica e nella diagnostica Un evento espressamente culturale che vedrà il 31 maggio due appuntamenti Innanzitutto la messa in scena della donna del fuoco Marietta Barovier, pioniera delle perle veneziane la prima donna imprenditrice del rinascimento che ha avuto la capacità con determinazione di ottenere il permesso di una fornace intestata a proprio nome L'importanza di fare rete e di fare sistema Avere l'ausilio delle associazioni degli ammalati e delle malattie rare perché spesso colmano i gaps che le istituzioni hanno nel trattare patologie che presentano molte difficoltà Il Garante si occupa della tutela non giurisdizionale delle persone con disabilità vale a dire che interviene dando raccomandazioni alle istituzioni, agli enti pubblici e privati affinché risolvano i problemi che si verificano in merito alla violazione di diritti e soprattutto poi stimola, promuove iniziative, interventi come possono essere quelle che oggi sta presentando l'associazione delle malattie rare rispetto agli eventi di venerdì prossimo La rarità, ecco, io penso che sia il problema nel senso che essendo pochissimo poche le persone che incontrano nella loro vita malattie rare allora l'impegno può essere un po' meno intenso A Cassano delle Murge, merenda nell'Oliveta Rigenazione fisica e mentale ma anche il ritorno alle radici questa è la missione che accomuna le 23 città dell'Olio Pugliesi che dal 1 maggio al 23 giugno organizzano eventi nelle Olivete dedicati al Mental Wellness il benessere psicofisico che deriva dal tempo che trascorriamo a contatto con olivi secolari testimoni di questa straordinaria civiltà millenaria Tra queste in realtà c'è anche il comune di Cassano delle Murge che insieme alla cooperativa sociale Fratello Sole ha presentato la seconda edizione di Merenda nell'Oliveta nel territorio dunque un prezioso momento per vedere da vicino un perfetto esempio di accoglienza e inclusione che ha coinvolto gli ospiti della struttura offrendo alla comunità e ai turisti un'esperienza unica nel paesaggio olivicolo locale Qua l'esperienza più bella è quella di valorizzare quella parte del territorio che ci appartiene la nostra industria è l'industria del territorio dell'enogastronomia, delle nostre origini e il turismo va improntato in maniera sostenibile nell'ottica dei cammini, del viver lento quello che apparteneva appartiene e apparterrà alla nostra terra noi non siamo, parlo della Puglia e dell'entroterra ma l'intero territorio pugliese un luogo diciamo dall'industria impattante noi siamo, la nostra industria è la gente e le bellezze paesaggistiche Noi siamo una cooperativa sociale che si occupa di riabilitazione psichiatrica in realtà nasciamo per occuparci di tutt'altro però nel momento in cui abbiamo avuto la possibilità di utilizzare questo terreno che è stato acquisito dalla cooperativa un po' di anni fa abbiamo deciso di utilizzarlo per due scopi fondamentali prima di tutto per la riabilitazione perché è il nostro ovviamente obiettivo primario per cui i nostri ragazzi sono impegnati in questo progetto partecipano alle attività e curano loro questo uliveto due, per valorizzare il territorio per cui avere la possibilità di produrre dell'olio di oliva che ha un valore aggiunto che è quello appunto della produzione da parte dei nostri ospiti che completano il ciclo della riabilitazione psichiatrica attraverso questa tipologia di intervento secondo me è il top, è il vero senso della riabilitazione amaterale celebrazioni in onore della Madonna delle Vergini simbolo di materanità ma anche di aggregazione sociale e sana devozione spirituale domenica 26 maggio si sono conclusi i festeggiamenti in onore della Madonna delle Vergini protettrice della murgia materana un appuntamento particolarmente sentito dalla comunità della città dei Sassi che ha accompagnato i festeggiamenti con devozione e commozione domenica all'alba nella chiesa della Madonna delle Vergini è stato rivolto l'omaggio a Maria a seguire i devoti hanno effettuato una passeggiata trekking con partenza dal piazzale della chiesa e poi hanno partecipato alla Santa Messa presieduta da Don Marco di Lucca vice parroco della parrocchia Santa Maria Madre della chiesa di Matera nell'occasione in tarda mattinata sono stati presentati anche i lavori di restauro della chiesa Madonna dei Derelitti con la benedizione della chiesa da parte di Monsignor Giuseppe Cagliazzo arcivescovo di Matera Irsina e vescovo di Tricarico questo restauro esprime proprio quella sinergia già insita diciamo nell'osservatorio dei Sassi della murgia materana APT, Università, Chiesa e Amministrazione insieme, Fondazione insieme proprio per cercare di restituire al territorio tesori, tesori da valorizzare come appunto la Madonna dei Derelitti il restauro conservativo più in generale e in particolare in questa chiesa mira a conservare quelli che sono i caratteri tipologici, formali, architettonici, artistici del bene il restauro conservativo cerca e mantiene quelle che sono le stratificazioni storiche a partire dalla patina del tempo che si viene a creare sulla roccia e sugli elementi tuface che compongono la facciata fino a mantenere tutte le stratificazioni storiche anche artistiche all'interno della chiesa i festeggiamenti sono poi ripresi con la recita del Santo Rosario e la celebrazione della Santa Messa presieduta da Monsignor Pierdomenico di Candia al termine della giornata la processione in località Murgecchia con la Madonna delle Vergini e l'affidamento della città di Matera a Maria è tutto, grazie per averci seguito arrivederci